Ciao da Vaccari Elettro Casa, oggi vi faccio vedere nel dettaglio una bellissima combinazione di un piano cottura e forno. Parliamo di una linea classica, di un piano cottura in color avena, molto bello, ecco che ci avviciniamo a questo colore beige puntinato con finiture in ottone spazzolati, in ottone invecchiato, quindi è un colore che si abbina molto bene a una cucina rustica, una cucina classica in noce, ma anche un colore beige o panna. Parliamo di un piano cottura a 5 fuochi largo 70 cm con griglie in ghisa, eccole qua, belle griglie pesante in ghisa, fuoco centrale doppia corona, quindi abbiamo la fiamma doppia sia interna che esterna per accelerare la cottura e naturalmente ha la possibilità di mettere il coperchio per chi interessa, arriva senza coperchio ma c'è la possibilità. Le caratteristiche belle di questi piani da 5 fuochi che possono essere incassati nei vostri piani cottura tradizionali da 60 cm perché la parte interna del piano incassa in un classico fuoco da 60. Questo meraviglioso piano naturalmente, non so se notate, parliamo di un prodotto made in Italy, questo fantastico piano cottura da 5 fuochi, noi lo abbiamo abbinato al suo forno. Questo è un forno sempre linea rustica, molto bello, elettrico, ventilato, anche lui ha queste finiture, appunto abbiamo un fondo avena, con queste finiture molto eleganti, sempre in questo tone invecchiato, ed è un forno con l'orologio centrale per il timer e la partenza e arriva a 300 gradi, quindi ideale sempre come tutti i forni dei longhi per la cottura di pizza, pane, ogni lievitato. Abbiamo infatti qui, lo vediamo, tutte le funzioni di cottura dolci, cottura pizza e lievitazione. Quindi bellissima abbinata di piano cottura e forno disponibile in negozio, venitelo a vedere perché è bellissimo, ma veramente elegante, ma anche molto molto affidabile e robusto. Va cari elettro casa, ciao!